Il Comune di Battipaglia si attiva per portare la banda ultralarga su tutto il territorio comunale. La Giunta, guidata dalla Sindaca Cecilia Francese, ha approvato la Convenzione tra Comune e Infratello, la società del Ministero dello Sviluppo Economico, che si occupa della realizzazione in tutta Italia di questo progetto per 180 milioni di euro. A seguire la procedura, l'assessore Davide Bruno, che in prima persona si è impegnato per raggiungere l'importante obiettivo. Si vuole assicurare a cittadini, enti ed aziende connessione a internet veloce, con la rete a banda ultralarga estesa su tutto il territorio della città di Battipaglia.